C'è profonda intesa di metodo tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Abruzzo. A breve avremo il nome giusto per competenze ed esperienza del commissario straordinario per il Gran Sasso, così da avviare a soluzione un dossier a lungo lasciato a incancrenirsi e che il Ministero ha contribuito in modo determinante a sbloccare. Dal Ministero dei Trasporti fanno sapere con queste parole che la struttura del Ministro Toninelli è a lavoro anche oggi per individuare il commissario che dovrà gestire l'acquifero del Gran Sasso e che tanto preoccupa ambientalisti e cittadini per la convivenza ravvicinata di tre infrastrutture, i laboratori di fisica, l'autostrada e appunto il bacino idrico. Il commissario per l'emergenza acquifero dovrà gestire appunto i lavori per la messa in sicurezza e dovrà coordinare il max intervento di 172 milioni di euro messi a disposizione dal Governo nazionale. Sarà una persona altamente competente, un nome che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, forse oggi stesso o comunque al massimo entro la settimana. Ho visto ieri pomeriggio il Presidente Marsilio, siamo consci di avere qualche giorno di ritardo, ha detto il Ministro Toninelli nel corso di un convegno al di Castero, invitando ad avere pazienza. Ci siamo presi qualche giorno in più per trovare i nomi migliori. confermando così le parole già espresse dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in visita a Terramo a fine giugno e quelle del Governatore abruzzese Marco Marsilio, il quale ha voluto dal canto suo gestire a brevi mano l'interlocuzione con il Governo, di fatto sostituendosi al sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D'Annuntis. Il pericolo inquinamento delle falde e del sistema che fornisce acqua a 700.000 abruzzesi ha scatenato nelle settimane scorse un'ondata di polemiche con l'annuncio della chiusura scongiurata all'ultimo momento del traforo del Gran Sasso da parte della concessionaria Strada dei Parchi. Un'ampas superata con un compromesso l'imposizione del limite massimo di velocità a 60 km orari sotto la Galleria del Gran Sasso.